Ciao a Betis.it, lui è il direttore di un mattatoio con il braccio paralizzato e anche il basso ventre paralizzato nel senso che non ha più esperienze sessuali da anni e anni e anni è un signore, è un misantropo che però si stira le camicie da solo anche con un braccio solo, c'è l'altro braccio che ce l'ha addormentato è il direttore di un mattatoio in Ungheria ed è uno dei protagonisti di questo film lei arriva a un certo punto nel mattatoio dove lui lavora e che lui gestisce per fare il controllo qualità della carne lei è autistica, è bionda, slavata, bellissima si ricorda tutto, non le sfugge niente io ci vedo benissimo, dice a lui, con gli occhi così è anche brava a giocare a carte, nel senso che te sgama se bleffi è assurda, è bionda e forse va da uno psicologo che però è quello che la seguiva da bambina e che nelle scene più divertenti di questo film, splendido, le dice ma perché non vai da uno psicologo adulto? ancora con me, devi venire ancora a parlare con me oh, it's a love story, cioè quando lei incontra lui in Ungheria siamo è un macello, appunto è un macello questo film è un macello bellissimo perché è un macello, il mattatoio dove lavorano lui e lei e guardate questo splendido questa splendida love story surrealista dove andrà a finire perché comincia tra loro due a nascere una certa cosa collegata anche, sì abbiamo finito al mondo onirico collegata al mondo onirico come deve fare un buon surrealista lei è una regista ungherese fantastica Eniedi, il Dico io ho sentito pure una giornalista ungherese che l'ha intervista su Youtube meno male per la pronuncia noi mettiamo prima il Dico Eniedi ha vinto l'orso d'oro all'ultimo festival di Berlino cioè quello del 2017 buon 2018 vi parlo dalla dimensione temporale del 2018 beh, mi ha fatto impazzire corpo e anima chi è corpo e chi è anima dei due lo dovete decidere voi andatela a vedere se vi piace il cinema d'autore pazzerello beh, è un'esperienza bizzarra sensuale, ironica tragicomica anche perché mi piace molto come questa regista che conoscevo ha fatto un film folle il mio ventesimo secolo bellissimo mi piace molto come questa come questa regista riesca a inquadrare questi ambienti riuscendo a trasfigurarli come deve fare un grande regista surrealista partendo da qualcosa appunto di concreto come un mattatoio è un film appunto molto di impiegati anche di stanze molto clinico freddo e c'è un contrasto netto tra una certa crudezza della realtà d'altronde stiamo in un mattatoio ogni tanto si vedono ste vacche che vanno lì e muoiono e questo mondo onirico nel quale non vi dico niente perché lo dovete scoprire da soli nel quale forse l'uomo col braccio addormentato e la donna con l'occhio sgranato un mondo onirico in cui loro si incontrano e chissà che cosa succede beh insomma un film stupendo veramente divertentissimo pieno anche di vuoti da riempire per noi spettatori come è in piena tradizione surrealista loro due sono loro due sono strepitosi pensate che lui non è nemmeno un attore professionista è un accademico è un artista è uno scrittore è un drammaturgo e lei che è leggermente più giovane di lui come attrice non pronuncio i cognomi perché se no ciao già il dico e niente è una grande fatica dirlo beh sono due attori strepitosi e reggono il film insieme alla regia di questa signora ungherese che dovrebbe come il nostro Kenneth Lonergan di Manchester by the Sea l'unico difetto della nostra il dico e niente è che fa i troppi pochi film fan di più perché è veramente un modo di fare cinema d'autore con grande grazia delicatezza senso dell'umorismo mi ha ricordato e qua vi lascio un film islandese che mi ha fatto andare fuori di testa dell'anno scorso storie di cavalli e uomini in cui come in questo film il mondo animale e il mondo degli esseri umani è in connessione in modo molto divertente quello era un film islandese ma l'aveva fatto andare fuori di testa c'erano delle storie appunto tra cavalli e uomini e come i cavalli ci aiutavano a sopravvivere anche da un punto di vista sessuale qui vi dico solo una cosa cervi ciao bettaste i cervi sono gli animali che potrebbero non si sa unire non si sa bene l'uomo col braccio addormentato e la donna dall'occhio sgranato corpo e anima bellissimo ha vinto l'orso d'oro a berlino nel 2017 ora siamo nel 2018 ciao bettaste ciao 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 ciao